Ai nostri telespettatori un sincero augurio di Felice 2015, data parte la felicità dovrebbe essere anche un diritto. Ma per dare un contenuto concreto a questo augurio, ecco, mi sono ispirato un pochino a ciò che è accaduto a Betlemme una settimana fa alla vigilia di Natale presso la Chiesa della Natività. Lì si sono raccolti insieme cristiani, musulmani, ebrei, tutti quanti ognuno pregando per conto proprio, o forse per meditare, ma comunque tutti quanti insieme. Ecco, è proprio quell'insieme ciò che conta, per credenti e non credenti, perché ritrovarsi nello stesso luogo da diversi ha semplicemente significato che quei diversi si sono riconosciuti, anzi, si sono parlati e sono sicuramente cresciuti della diversità dell'altro. E questa è la scoperta di una grande risorsa. Risorsa che smaschera il volto nascosto dell'odio, del fanatismo, dell'intolleranza verso le idee e le vite degli altri. E dunque Betlemme si pone come uno dei tanti luoghi possibili dell'ascolto e del dialogo. Dialogo tra diversi, tra radicalmente diversi, che hanno avuto la capacità di guardarsi in faccia, di parlarsi e quindi di riconoscersi. E questo ascolto e questa capacità di sguardo sono gesti che aprono verso il futuro. Ciò accade tra persone, questo può accadere anche tra popoli e nazioni.